Durante l'estate i turisti a Venezia danno il meglio di sé, anzi il peggio. Non basta più ormai farsi bagno nel canale grande, mangiare seduti per terra o girare in costume. Ora c'è chi non riesce ad aspettare di poter trovare una toilette e fai i bisogni direttamente dove capita. Se qualche giorno fa infatti ha fatto il giro del web la foto della donna che non curante di tutto, si era abbassata i pantaloni a pochi passi da Piazza San Marco per soddisfare i propri bisogni, domenica pomeriggio un'altra donna è stata fotografata mentre si appartava in un angolo a punta della dogana per fare pipì. Eccola! L'immagine immortala chiaramente una donna di spalle, probabilmente di mezza età, in un atteggiamento che non lascia spazio ad equivoci. Ma il degrado nel fine settimana si è esteso a tutta la città. Alcuni visitatori, probabilmente per non pagare una tariffa troppo alta in uno dei tanti hotel lagunari, hanno pensato di accamparsi con le tende sotto al portico della chiesa dei Tolentini. Ne parleremo con il sindaco al rientro dalle ferie, ma lo dico con molta chiarezza, si è superato ogni limite, ha commentato l'assessore al bilancio Michele Zuin. Di certo, sottolinea, anche in considerazione di quanto sta accadendo, sarebbe opportuno una volta di più che si chiarisse la vicenda del patto di stabilità. Se vi fosse uno sblocco da parte del governo, saremo in grado di assumere quei 70 vigili in più, anche in funzione antidegrado. Lo Stato dovrebbe decidere anche in virtù di quanto sta accadendo a Venezia e non solo. Grazie. 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 Grazie.